Siamo qui ad Aprilia per la sfida di calcio a 5 femminile serie C tra la coccinella e la SD Tutto pronto si può iniziare, la tiene molto bene e va dentro, tiro da parte di Cordovani, prova a girarsi, Aiello, manda di Lorenzo, ancora di Lorenzo, poi là dentro, Aiello, tiro, ancora rete, rete da parte della squadra di casa con la numero 10 di Lorenzo Che porta in vantaggio la coccinella, Javarone, molto bene per Campanelli, che punta Pasquinelli, ancora Campanelli, prova ad andare dentro, Campanelli Molto brava Campanelli, si gira di Lorenzo che prova il tiro, ottima la giocata, molto brava in questo caso la numero 10 di Lorenzo che sfiora la doppietta Pacitti che viene anticipata molto bene da Campanelli che parte in contropiede, ancora Campanelli, la gira per Di Lorenzo, Di Lorenzo rientra, tira, ottimo l'intervento da parte di Torrioni Autrice appunto del gol del vantaggio per la coccinella, ancora Di Lorenzo Scambia, ancora Di Lorenzo sola, para dentro, rete, bellissima l'azione della coccinella che si porta sul doppio vantaggio Gol di Giondi, ma ancora una bellissima giocata da parte della numero 10 di Lorenzo Deve reagire adesso la SD Petralla con Pasquinelli che ricomincia da Massimi, che la manda per Paciotti, ottima l'azione Tiro, ottimo l'intervento da parte di Javarone, allontana Giondi, subito la reazione da parte della SD Petralla Palla su per Di Lorenzo, che la copre e manda dentro, Aiello, solo davanti al portiere, Aiello, ottimo l'intervento da parte di Torrioni, contropiede per la SD Petralla Palla su, Di Lorenzo, punta Massimi, palla dentro, rete, gol da parte del capitano della coccinella, Aiello, 3-0 Punta Pasquinelli, ancora Aiello, molto bene per Di Lorenzo, ottima l'azione da parte della squadra di casa Giondi, ricomincia Aiello, prova il tiro, rete, bellissimo il gol Rinvio da parte di Torrioni, ottimo Ancora Massimi, ottimo l'intervento da parte di Lorenzo, che punta, tiro, ottimo l'intervento da parte di Torrioni Strinati, dentro per Aiello, ancora Aiello, tiene palla, la gira Ottimo l'intervento da parte di Torrioni D'Alessio Ancora D'Alessio, prova l'azione personale Tiro di D'Alessio, ottimo l'intervento da parte di Torrioni Di Lorenzo, parla dentro, rete Rete La coccinella si porta sul punteggio di 5-0 L'autrice del gol è D'Alessio Pacitti Tiene palla su Strinati, ancora Pacitti, molto bene Per Diaz, che prova il tiro, palo Torrioni, subito su per Pacitti Anticipata molto bene da Strinati Di Lorenzo, punta Massimi Ancora Di Lorenzo Palla dentro Salvataggio sulla linea Da parte del numero 6, Scribano Dentro per Aiello, anticipata molto bene da Diaz Silva che allontana La palla rimane lì però Aiello, prova il numero Ancora Aiello, tiro, rete Bellissimo il gol da parte del capitano della squadra di casa Aiello, che porta il punteggio sul 6-0 Campanelli D'Alessio Tiene palla, ancora D'Alessio Dentro per Aiello Aiello Tiro, rete Un altro gol di Aiello È il quarto Punteggio sul 7-0 Pacitti Palla dentro Aiello prova ad allontanare C'è il tiro Ottimo l'intervento Da parte di Javarone Prova la giocata Pacitti E va dentro per Pasquinelli Controveda da parte di Aiello Aiello, uno contro uno Ancora Aiello Tiro Ottimo l'intervento da parte di Torrioni Nuovamente Torrioni molto bene Aiello Prova il tiro C'è un salvataggio sulla linea da parte Della SD Petralla Ancora nuovamente Aiello C'è il tiro Ottima Torrioni Nuovamente C'è Aiello Che la gira ancora per D'Alessio C'è il tiro Palo Palo da parte di Strinati Vicino all'8-0 La coccinella La coccinella Aiello Prova andare Autocall da parte di Massimo Aiello Di Lorenzo Ancora di Lorenzo Palo dentro Errore a porta vota da parte di Aiello Dentro per Di Lorenzo Ancora Di Lorenzo Campanelli Campanelli Prova il tiro Ottimo l'intervento da parte di Torrioni Ancora Aiello Di Lorenzo Si gira Ancora Di Lorenzo Palo dentro Rete Gol di Aiello 9-0 per la coccinella Aiello Dentro per Di Lorenzo Ancora Di Lorenzo Di Lorenzo Tiro Ottimo l'intervento ancora di Torrioni Pacitti sul punto di battuta per un corner Massimi Prova il tiro Ottima la parata da parte di Chiamarone Che manda la spera Anche Sul palo Di Lorenzo Ancora Di Lorenzo Di Lorenzo Palo dentro Aiello D'Alessio Di Lorenzo Si gira Ancora Di Lorenzo Di Lorenzo Di Lorenzo Tiro Salvataggio sulla linea da parte di Pacitti Di Lorenzo Ancora Di Lorenzo Prova l'azione solitaria Palo dentro Ottimo l'intervento ancora da parte di Torrioni Pacitti Prova il tiro Ancora Iavarone Molto molto bene Massimi Prova il tiro Ancora Iavarone Che a sua volta Manda in porta di Lorenzo Che rientra Ottimo ancora l'intervento di Venezia Da parte di Giazzi Silva Aiello Prova il tiro Ancora molto bene L'intervento da parte di Torrioni Pacitti Prova a girarsi Di Lorenzo Si gira con facilità E ben porta Ancora Di Lorenzo Pala dentro Rete 10 a 0 Un altro gol da parte Del capitano Aiello Di Lorenzo Aiello Pala dentro Di Lorenzo Che prova il tiro Rete Un'altra bellissima azione Che porta La coccinella Sul punteggio Di 11 a 0 Di Lorenzo Aiello Ancora porta palla Pala dentro E Rete Un altro gol Della coccinella Con D'Alessio Punteggio sul 12 a 0 D'Alessio Prova la progressione personale Ancora D'Alessio Prova il tiro La palla esce di pochissimo E finisce qua La coccinella batte La SD Petralla Per 12 a 0